Borse gentili e circolari, sono quelle di Mio Moio, Claudia Pievani, founder e CEO di questa realtà che ha sede a Bergamo, buongiorno. Buongiorno Maria Cristina, grazie mille per l'invito. Ma è nostro piacere intanto, perché siamo curiosissimi noi di Pink and Green, perché vi chiamate Mio Moio? Allora, questa domanda ce la fanno tutti, quindi mi fa piacere che la possa spiegare. In viene dall'inglese, da uno slang inglese, una frase che si dice Today I have my Mojo, che significa oggi ho il mio Mojo, significa che oggi sono in quello stato meraviglioso in cui mi sento che posso realizzare tutti i miei sogni. Quindi è uno stato energetico in cui sento veramente che posso spaccare. Caspita, voi state spaccando, Claudia, state spaccando. Voi state offrendo a tutti delle borse, perché immagino che siano gender apertissime. Sime, assolutamente. Ok, delle borse che non sono fatte di pelle e quindi voi assicurate che non c'è crudeltà animale, ok? E anzi, appoggiate un sacco di realtà che aiutano proprio a dare dignità agli animali nella loro vita. Ma comunque voi utilizzate proprio dei tessuti naturali. Naturali, ad esempio, ultimamente so che avete in corso anche una lavorazione sul bambù prodotto in Italia. Però, quello che piace a noi di Pink and Green è proprio il tema del tessuto da scarti, da materia prima e seconda. E voi ne fate tanto di questo tipo di uso. Cosa usate? Bene, allora, per quanto riguarda la prima parte, mi interessa abbastanza dire che effettivamente la nostra motivazione è soprattutto etica. E quindi, infatti, Vogue ha definito le nostre borse, le borse che salvano vite due volte. Una volta nella produzione, visto che appunto, come giustamente diceva, non utilizziamo materiali di origine animale. E due, perché con ogni singolo acquisto o vendita delle nostre borse, sosteniamo diverse organizzazioni internazionali per la tutela ambientale ed animale. Questo ci ha portato, ovviamente, a ricercare tutti i materiali non di origine animale e, possibilmente, anche non di origine fossile. Grazie all'innovazione, questo oggi è possibile. E, infatti, li abbiamo testati tutti, li testiamo tutti. Abbiamo un team dedicato per ricerca e sviluppo che si occupa proprio di cercare tutti i materiali presenti al mondo che possano essere utilizzati anche per i nostri prodotti. Chiaramente questo poi lo vediamo noi e quindi verifichiamo se siano effettivamente adatti ad una borsa. Non tutti lo sono. Noi vogliamo, infatti, unire etica ed estetica e quindi alcuni magari non ci piacciono semplicemente. Però devo dire che negli ultimi anni l'innovazione è stata veramente straordinaria. E quindi, come dicevamo, sì, quello di bambù è l'ultima versione, ma ci sono anche quello dalle arance, dai resti delle arance, dai resti delle olive, dai resti delle mele. E quindi, insomma, in questo caso è sicuramente upcycling e quindi circolarità, perché utilizziamo gli scarti dell'industria alimentare che altrimenti verrebbero buttati in diverse composizioni a seconda del materiale. Ma oggi siamo arrivati addirittura all'80% di composizione biobased, che è straordinario, perché ovviamente questo significa avere a disposizione un'alternativa che è molto meglio dello standard di mercato, sia esso animale, sia esso sintetico. Quindi un giorno ci saranno borse di fiori, borse di radici e questo è il mio messaggio ai nostri lettori, molti dei quali sono biotecnologi, studiate proprio lo scarto dello zafferano, sarebbe bellissimo. Ma poi le borse sono identiche e gentili ma belle, c'è qualcosa che possiamo vedere? Allora, tra l'altro, sì, questa è made from apples. Ovviamente noi lo scriviamo proprio perché, giustamente come diceva, altrimenti non si vede la differenza. Cioè, ormai abbiamo anche innovazione. Quando abbiamo iniziato magari c'era solamente una texture, adesso abbiamo tutte le texture del mondo. E questo permette di avere dei materiali che, sia al tatto che alla vista, non hanno alcuna differenza con la pelle animale. Le faccio vedere magari anche... Potete fare anche di tutti i colori. Ecco, questo è verde come le olive. Esatto, vabbè, questa è stata la nostra scelta, ma si può fare effettivamente di tutti i colori. Anche per l'arancio, abbiamo deciso per l'arancio. Anche questo è un materiale bellissimo. Quando lo si vede, sembra veramente di vedere una borsa di livello altissimo, lusso. Certo, e le chiedo, la durabilità di questi prodotti? Sì, allora ovviamente anche questo è molto importante perché per noi, uso questa parola che non amo usare, però sostenibilità significa anche durabilità perché quello che diciamo è sempre comprate meno, comprate meglio e utilizzateli di più. Quindi è chiaro che le borse devono essere anche durevoli e lo sono, nel senso che vengono fatti tutti i test di laboratorio appositi. Anche qua ci sono miglioramenti continui, è ovvio che si tratta di un processo e quindi un processo in continuo miglioramento, per cui a volte ci dicono sì però magari nelle mele abbiamo solo una composizione del 30%, beh non importa perché comunque è il 30% migliore rispetto a quello che è lo standard di mercato e quindi per arrivare al 100% è necessario un percorso e però ci stiamo arrivando. Per esempio, noi non l'abbiamo qua però un materiale meraviglioso è quello che viene creato completamente in laboratorio dal micello di funghi. In questo caso l'impatto è bassissimo, come puoi immaginare, ed è infinitamente replicabile all'interno di un laboratorio e anche qui il feel è meraviglioso. Siamo a breve o è già in produzione? È già in produzione, si tratta di un'azienda tra l'altro vicino a noi, a Varese, che recentemente ha ricevuto un grossissimo investimento dal gruppo Kering, che è il secondo gruppo più importante del lusso, proprio perché anche gruppi di questo tipo si rendono perfettamente conto e l'hanno detto pubblicamente che devono assolutamente cercare di ridurre la pelle animale essendo uno dei materiali più impattanti al mondo. Sì, il tema l'abbiamo trattato più volte, Claudia. Le chiedo, non è soltanto lì l'economia circolare vostra, anche nel packaging state studiando di non buttare tutto questo cartone, carta? Sì, molto delicato perché tutti noi ci vediamo recapitare dei prodotti con tantissimo packaging che poi finisce chissà dove. Tra l'altro ancora tantissima plastica, vediamo. Noi dall'inizio non usiamo assolutamente plastica e è chiaro che il packaging è riciclato, però questa è una cosa che secondo me è una condizione sine qua non. Quello a cui vorremmo arrivare però è avere uno zero waste, cioè uno riceve una borsa a mio mojo e non butta assolutamente nulla e questo tra poco sarà possibile in quanto ci sono anche la possibilità di avere dei packaging non monouso ma pluriuso, cioè sostanzialmente il cliente riceve la nostra borsa all'interno di una bella scatola piuttosto che di una bella busta e questa busta o scatola poi possono essere dal consumatore semplicemente messi in una casella postale, ritornano all'azienda che li fornisce, vengono sanificati e poi ritornano a noi che possiamo riutilizzarli. Questo mi dà grande gioia perché in questa rubrica riusciamo a dare dei dettagli di nuovi comportamenti che una volta non ci immaginavamo neanche. Claudia, a questo punto io credo che il nostro videoascoltatore voglia capire dove può trovare queste borse per toccarle, per acquistarle. Sì, allora sicuramente online, nel senso che noi consegniamo online in tutto il mondo già da diversi anni e in Italia ci stiamo apportando ora ad avere una distribuzione offline, quindi se il suo ascoltatore è italiano online li riceve nell'ambito di uno o due giorni quindi siamo molto efficienti. Posso anche chiederle se i costi sono allineati alle classiche borse fashion o avete anche un'attenzione da questo punto di vista? Allora, nonostante noi produciamo nelle stesse fabbriche ovviamente italiane del lusso abbiamo voluto un price point, un posizionamento prezzo che fosse più democratico ovviamente sempre considerando che si tratta di una supply chain italiana, di prodotti innovativi eccetera però abbiamo veramente studiato moltissimo in modo che ci fosse un posizionamento che è un posizionamento premium e non lusso proprio perché vogliamo che siano acquistabili da più persone, che più persone vedano che le alternative sono possibili e che quindi noi possiamo avere un impatto più ampio verso il nostro pianeta e tutti gli esseri viventi. Bene, Claudia, veramente complimenti per questa azienda e complimenti per anche la ricerca e lo sviluppo che fate proprio in tema di economia circolare. Grazie, grazie e a presto. Tenetemi aggiornata sugli sviluppi futuri.